Una stagione turistica pronta a ripartire o che forse non si è mai fermata alla luce dei tanti eventi. A San Vitolo Capo è pronta la nuova edizione di A Tutto Sport che porterà nella cittadina da domani e fino a domenica 28 aprile tantissimi giovani e numerose discipline sportive. L'evento ha ricevuto l'appoggio dell'amministrazione comunale che sta anche pensando a rifunzionalizzare il porticciolo turistico dopo che è definitivamente decaduto il mega progetto della Marina Bay. Abbiamo già iniziato da tempo la programmazione del nuovo calendario per la stagione turistica 2024 e già domenica scorsa, otto giorni fa, abbiamo iniziato con Vivi Città che è la terza edizione. Dal 24 al 28 inizieremo con una manifestazione molto importante che è ormai conosciuta che è tutto sport, si faranno sport da tutti i tipi ma non solo sport ma anche attività di degustazione, attività di intrattenimento musicale. Saranno 4 giorni completi di festa. A seguire a maggio avremo anche altri eventi che riguardano sempre lo sport. Abbiamo un evento che è programmato già da un po' di anni che è quella del festival degli Aquiloni che si farà dal 22 al 26 maggio e che già sicuramente porterà grandi presenze a San Vito Lo Capo. Perché me lo dicono gli operatori turistici che sta andando molto bene. Poi a seguire avremo tanti altri eventi durante la stagione estiva, sia culturali, il famoso libro d'autore Bucanville, Sicilia Ambiente. Perché noi siamo anche rispettosi naturalmente dal territorio e dell'ambiente. Per poi culminare con il grandissimo evento di fama mondiale che è il Cusk Su Fest. In bassa stagione abbiamo avuto anche diversi, lo sport outdoor, quindi molti rampicatori specialmente provenienti dall'estero sono venuti e ci hanno gratificato per la loro presenza. Tutto ora sono presenti e anche nella bassa stagione ottobre-novembre e anche per Natale si continua questa attività. Quindi diciamo che si sta destagionalizzando un po' il turismo a San Vito Lo Capo. Diciamo che però in materia di rampicatori ma anche di escursionisti lungo i sentieri dello Zingaro ogni tanto di incidenti ne capitano. Quindi insomma bisognerebbe anche stare un po' più attenti. Sì, purtroppo sì, giustamente la sicurezza è qualcosa di importante che dovremmo attenzionare di più. Noi stiamo cercando di mettere anche una falesia, qualche falesia insomma in sicurezza così per garantire anche gli operatori che verranno. Giustamente anche da parte loro ci vuole più attenzione perché purtroppo la montagna se non si conosce bene, non si conoscono bene le vie, diventa pericolosa. Un ultimo argomento, quel famoso progetto di nuovo porto con quell'azienda, polemiche, ritirato, presentato, qual è lo stato dell'arte? Ormai è tutto abbandonato, tutto tace, quindi siamo tranquilli che non verrà applicato questo progetto e anche perché noi abbiamo bisogno di un'altra tipologia di turismo e di rispetto del territorio e dell'ambiente tutto. Sicuramente faremo qualcosa che possa rivalutare il porto, dare maggiori servizi all'utenza, ai pescatori e anche naturalmente ai diportisti, però qualcosa che non sia molto invasivo per come era previsto allora.